e chi poteva essere sono mia figlia allora ragazzi ecco qua applicato il correttore quindi vi ricordo che lo 02 ora invece voglio andare a mettere così tanto per continuare con la linea di astra il transformist il fondotinta di astra che praticamente ho finito però ancora insomma c'è qualche cosina da poter estrapolare questo qua che ho visto ancora ieri nello stand è buonissimo vi ripeto transformist e questo fa da correttore da fondotinta e ha un applicatore molto molto bello vedete questo applicatore bello cicciotto allora andiamolo a stendere guardate come si avvicina tantissimo alla tonalità del correttore vedete oggi posso applicare questo fondo che è fluido perché l'aria è più fresca e quindi non mi dà fastidio tra l'altro mi devo dire che sono un pochino raffreddata non so se l'avvertite dalla mia voce e la cosa che mi dà più fastidio è che ho paura per alice appunto di potere contagiarla e quindi questo comporta stare assolutamente lontano da lei e vabbè pazienza ragazze guardate come coprente questo fondo è molto molto coprente allora ragazze io per applicare il nuovo ombretto di astra che è questo qua è lo 05 cromo therapy questo vedete e poi ho lo 01 che questo argento e poi ho lo 04 che è una specie di rosa ragazze sono tutti meravigliosi oggi appunto devo provare questo qua che è una specie di viola vi devo dire che oggi ho scelto quest outfit col rosso che non si sposa tantissimo ma tanto noi ce ne freghiamo perché va bene così anche perché poi applicherò un rossetto rosso quindi vado a riprendere con il rossetto allora raga nella mia infinita collezione di ombretti di trucchi in generale ho provato tante palette e mi è piaciuta questa acqua che di debora vedete a queste tre cialdine e questo qua mi sembra il più somigliante quello che si avvicina di più al light therapy di astra perché naturalmente farò una base e poi invece vado a mettere diciamo nel tutto l'arco qui iniziale metterò quello quindi sono andata a cercare un colore che assomigliasse molto appunto al light therapy e questo devo dire che le somiglia moltissimo in effetti io non ho provato mai a fare tutta la palpebra con il light therapy però non lo so mi sembra non lo so però devo provare qualche volta perché magari sta bene io di solito faccio tutta la parte iniziale dell'occhio e ho visto nelle altre youtuber che molto spesso fanno invece la parte centrale però così tanto per saperne parlare qualche volta provo e faccio tutta la palpebra ok devo dire che questo viola proprio si avvicina moltissimo mi piace appunto questa somiglianza ok ragazze ora andiamo a mettere finalmente questo sono indecisa no ragazze facciamo una cosa mettiamo prima la matita mettiamo prima l'eyeliner e poi vado a mettere l'ombretto quello la allora mi sono temperata pure le matite quindi la matita nera la matita nera ok ora andiamo a mettere l'eyeliner ragazze grazie sempre per l'affetto e grazie per le tantissime visualizzazioni per il mio home tour aggiornato e non perdo occasione di ringraziarvi perché siete state tantissime e siete state veramente affettosissime grazie naturalmente sapete che per noi youtuber appunto che facciamo video che li carichiamo insomma facciamo questo questo lavoro e naturalmente poi essere ripagate da tante visualizzazioni e da tante conferme e tanti complimenti è come dire la cosa più bella almeno diciamo quello che facciamo lo facciamo quasi però almeno è apprezzato allora io vado a dare uno sguardo inforcando gli occhiali perché l'eyeliner sta diventando è il momento più complicato perché appunto non non vedendo bene il rischio di combinare e dei piccoli macelli di fatti devo andare un pochino ad aggiustare devo andare ad aggiustare facciamo finta che abbiamo aggiustato sì si deve aggiustare qui allora penso che lì devo applicare un pochino di correttore perché ho fatto una linea ma non credo che la potrò aggiustare così va bene ragazzi dai continuiamo altrimenti mi fermo con questa imprecisione non vado più avanti invece voglio andare assolutamente avanti e voglio finalmente andare ad applicare questo meraviglioso ombretto light therapy no cromo therapy di astra allora dai lo mettiamo insieme guardate ora la pennellata andiamo a bagnare il pennello il pennellino ecco qua ci vedete da questa pennellata proprio di luce estrema allora qui c'è un buco allora io devo dire che i miei colori preferiti sono sempre i colori diciamo della terra il lilla il viola non li uso tantissimo però devo dire che questi ombretti sono così belli che va bene utilizziamo anche questo colore allora ragazzi andiamo ad applicare ora invece il rossetto e continuiamo con astra e vado a mettere questo rossetto bellissimo di astra no no scusatemi di chico guardate che bello allora sono indecisa ecco perché ho detto astra perché mi sono preparata sia questo qua vedete che è così tipo con i brillantini e poi mi sono preparata appunto quello di astra il criminal vedete allora questo rossetto di astra criminal è molto vellutato molto cremoso pieno mentre questo è un pochino meno scorrevole è un pochino più asciutto però ugualmente bello vedete tutti questi glitter che poi appunto si riversano anche sulle labbra però ho deciso che vado a mettere quello di astra che è anche più nuovo proprio come come genere di rossetto perché questa è la nuova collezione che è uscita da poco allora ragazze io ho una matita rossa di make up revolution che però non trovo perché facendo questo cambio di postazione trucco per il momento non la trovo allora vado a mettere questa matita che è la numero 29 sempre quella di mi pare che è di wicon si ed è un color carne quindi vi ripeto non avendo non trovando la matita rossa anche se ne ho delle altre vado ad applicare questa che è un nude e poi metto il rossetto rosso diciamo che mi serve più per delineare le labbra e non combinare due pasticci ok allora andiamo a mettere questo rossetto così andiamo a riprendere un poco i colori con cui sono vestita guardate come scorre bene questo rossetto nonostante ho messo la matita ho sbordato un poco ragazze se volete un rossetto molto confortevole molto coccoloso per le labbra vi consiglio questo nuovo rossetto di astralip criminal veramente bello e tra l'altro ci sono dei bellissimi colori che vanno dai nude al rosso più vivo questo è un rosso scuro agli aranci insomma avete una varietà di colori infinita ok ragazzi allora andiamo a mettere il blush è inutile che vi dico che per ora sono fissata con questo di chiclam che mi sembra forse che stia per finire quindi mi sa che lo devo ordinare perché poi mi è piaciuto tantissimo e l'ho preso poi pure questo colore che però è un pesca ma il rosa mi piace di più vi devo dire la verità che il rosa mi piace di più ok si stende che è una meraviglia ve lo dico sempre si stende benissimo e vado a mettere un'altra puntina e poi però voglio mettere un po' di mascara ragazze perché insomma con questi occhi così importanti luminosi un po' di mascara ci sta questo è il primo che mi viene sotto mano ma è buonissimo perché quello di Wicon che forse appunto con il tempo è migliorato è diventato più asciutto è più pastoso e quindi va bene così è stata una buona pesca il problema è che io sono piuttosto pigra con il mascara perché vedo nei video delle altre due passate tre passate io quando me lo ricordo ogni tanto che metto il mascara ne faccio una di passata e buonanotte mentre appunto le altre fanno asciugare e poi ripassano le altre fanno asciugare le altre fanno asciugare il mascara ok va bene così una passata basta e avanza fatemi guardare i danni allora il mascara altro che se si vede ed è tantissimo rossetto bello pennellata di luce che mi piace tantissimo questa pennellata è il fondotinta ragazze che è spettacolare ve lo faccio vedere di nuovo astra transformist vi ripeto l'ho visto è sempre in produzione perché è buonissimo e costa circa 12 euro